Le elezioni regionali è l'ultimo giorno di campagna elettorale. Ascoltiamo il candidato all'Assemblea regionale nella lista di alternativa popolare nel collegio di Agrigento. Enzo Fontana. Oggi venerdì 3 novembre, ultimo giorno di campagna elettorale, occasione di appello al voto finale. Sì, oggi è l'ultimo giorno. No, è proprio pomeriggio alle 17.30 al mio comitato elettorale del Viale della Vittoria, al numero 315. Chiuderemo questa entusiasmante, devo dire, campagna elettorale. Io, oltre ai vari problemi che la gente mi ha posto, credo sia stata per me una campagna elettorale veramente entusiasmante, con grande partecipazione e tanto sostegno. Credo di aver incontrato veramente migliaia e migliaia di persone, tanta gente che spontaneamente si è avvicinata e che mi ha dichiarato proprio la vicinanza, il sostegno. Quindi da questo punto di vista mi sento assolutamente gratificato e soddisfatto e spero di poter raccogliere un risultato che è quello che, insomma, abbiamo il frutto di quello che in questi anni noi abbiamo prodotto. Io credo di aver seminato tanto, perché sono stato 5 anni, al di là della campagna elettorale, sono stata una persona sempre presente nel territorio, mi sono sempre occupato dei problemi che riguardano la Sicilia in genere, ma anche la provincia di Agrigento. Sono stato in Commissione Sanità nella qualità di Vicepresidente e ho lavorato tantissimo per esitare la famosa rete ospedaliera che ha sbloccato finalmente le assunzioni, i concorsi e quindi che darà anche respiro alle varie aspe, agli ospedali. Quindi, insomma, un lavoro fatto con grande impegno, con cuore e passione, così come è anche il mio slogan che ho messo proprio sul facsimile, ma anche nella pubblicità che ho prodotto. E quindi che la mia caratteristica è quella della presenza costante, della grande passione che è sempre profuso nella politica e credo alla grande generosità che ho sempre mostrato in tutti questi anni di attività politica.